Il freno di stazionamento ha smesso di funzionare? Non disperate e leggete cosa fare quando il freno a mano è bloccato. Cosa accade al freno a mano bloccato? Il freno di stazionamento viene comunemente chiamato anche freno a mano ed è un componente fondamentale per permettere all'auto di stare ferma quando viene parcheggiata, detto anche freno di emergenza. Si tratta di un dispositivo formato da molle e cavi protetti. In una guaina il cui sistema cambia in base alla marca, al modello e all'anno della vettura. Ciò che non cambia è la possibilità che il freno a mano si blocchi, magari anche a causa del freddo, impedendovi quindi di spostarvi e ripartire. Si tratta nello specifico di una condizione scomoda che si verifica più di frequente soprattutto nei veicoli vecchi, non dotati di componenti del freno di stazionamento protetti e capaci di mantenere l'umidità come avviene sulle auto moderne. Ecco, quindi, i migliori metodi per sbloccare il freno a mano bloccato in pochi step. Come sbloccare il freno a mano? Per iniziare la manovra di sbloccaggio del freno a mano prima di tutto avviate la vettura per scaldare il motore e gli altri componenti. Due punti anche se a volte è sufficiente aspettare che questa azione da sola faccia scaldare il carrello abbastanza da smuovere il freno di stazionamento, si tratta di una procedura che soprattutto all'esterno e al freddo richiede molto tempo. In ogni caso per procedere mantenete il motore in funzione e provare a disinserire più volte il freno di stazionamento, diciamo una decina di volte. Se il freno è bloccato a causa delle basse temperature e questa procedura non funziona, oppure avete fretta, è necessario intervenire allo sbloccaggio del freno di stazionamento congelato togliendo o sciogliendo il ghiaccio. Cosa fare per sbloccare il freno di stazionamento bloccato? Usate il phon per aiutarvi a sciogliere il ghiaccio efficacemente, per farlo puntatelo verso la parte congelata del cavo, usando un po' di cautela per evitare di far riscaldare eccessivamente le parti metalliche esposte. L'ultima alternativa, in mancanza d'altro, è quella di usare dell'acqua calda, ricordandovi però che la situazione in caso di temperature estreme potrebbe anche peggiorare ulteriormente. Se nessuno di questi metodi funziona per rilasciare il freno di stazionamento bloccato è arrivato il momento di rivolgervi a un meccanico professionista che risolverà il problema.